In Veneto fin dall'avvio della legislatura c'era già una normativa sostanzialmente simile a questo, il Veneto quindi riparte, lancia in resta con la eterologa ondevitare poi i viaggi della speranza. A me spiace che la si butti sul conflitto personale che si citi la religione. Glielo dico da cattolico, io da Veneto ho portato la fecondazione assistita fino ai 50 anni e non vedo nulla di contrario alla vita, pensare di diffondere e di rendere legale la fecondazione eterologa.